nomine per i top job europei quale strategia persegue la premier meloni commenti degli attori politici in italia il primo ministro ungerese urbani incontra il presidente ucraino zelensky a kiev colloqui sulla pace in ucraina nomine per i top job europei quale strategia persegue la premier meloni commenti degli attori politici in italia il primo ministro ungerese urbani incontra il presidente ucraino zelensky a kiev colloqui sulla pace in ucraina la scorsa settimana la premier italiana giorgia meloni si è opposta al pacchetto di nomine per i top job dell'unione europea compreso il voto di astensione per la candidatura di von der lion alla rielezione presidente della commissione europea meloni ha sostenuto che l'accordo era carente sia nel metodo che nel merito a un paio di settimane dal voto abbiamo chiesto al capogruppo di fratelli d'italia la camera tommaso foti cosa c'è dietro la posizione di giorgia meloni l'obiettivo delle nomine a livello europeo è quello di recepire il messaggio che viene dalle urne ed è un messaggio chiaro è un messaggio che ha bocciato la politica di macron che ha bocciato la politica di schulz e non li ha bocciati perché lo dicono gli italiani o gli europei in generale ma perché principalmente queste politiche sono bocciate in ambito nazionale dai francesi e dai tedeschi quindi non si vede una ragione sola per cui si debba ostentamente tenere in piedi un asse franco tedesco quando in realtà questo asse è stato demolito dagli elettori dei due paesi secondo l'ex ministro degli affari europei enzo muavero milanesi il rischio che l'italia resti isolata non è un'opzione ciò che conta è la strategia che meloni sta perseguendo è una partita che nelle mani del presidente del consiglio la quale dobbiamo assolutamente supporre che abbia una strategia naturalmente a livello europeo il meccanismo è molto diverso da quello che noi conosciamo a livello nazionale nel caso particolare di giorgia meloni dobbiamo anche considerare che lei è presidente del cosiddetto icr il partito dei conservatori europei e dunque ha una doppia configurazione la sua presenza in questa diciamo partita delle delle nomine europee naturalmente influisce sicuramente sulla strategia che lei intende adottare anche ciò che accadrà in francia dopo il 7 luglio è cruciale soprattutto l'esito del 7 luglio cioè i ballottaggi chiarirà ulteriormente quanta forza hanno anche nei governi le destre europee difficile pensare ad equilibri a bruxelles prescindendo dal governo italiano e dal governo francese tutti e due con lo stesso segno politico e dopo la delusione il governo meloni punta su un posto di primo piano in commissione per l'italia migliaia di palestinesi hanno cominciato un nuovo esodo dopo l'ordine di evacuazione della parte orientale di can yunis dato martedì dall'esercito israeliano tra queste ci sono 320 tra pazienti e sanitari dell'ospedale europeo che ha cessato di operare secondo l'organizzazione mondiale della sanità valutiamo che vi siano almeno 1,8 milioni di persone nella parte centrale di gaza hanno confermato le autorità militari israeliane le nazioni unite denunciano che l'ennesima evacuazione lascia i palestinesi senza nessun posto sicuro dove andare un attacco aereo israeliano ha ucciso martedì 12 palestinesi tra cui nove membri di una famiglia proprio in una zona designata come sicura nell'area di can yunis i raid proseguono anche nel nord della striscia dove una ventina di palestinesi è morta per i colpi di artiglieria e di droni gli attacchi non hanno riguardato solo gaza un bombardamento nel campo profughi di nur shams in cisgiordania ha ucciso quattro persone martedì le elezioni generali del regno unito potrebbero cambiare in modo significativo il panorama politico dell'irlanda del nord sono in palio 18 seggi a westminster il partito unionista democratico filo britannico ha attualmente otto seggi mentre lo shin fein il partito di unità irlandese ne ha sette il partito nazionalista è convinto di poter ottenere un buon risultato gli unionisti affermano di essere fiduciosi riporteranno a londra otto i risultati dicono come avviene attualmente compreso il leader del partito con i partiti unionisti rivali che potrebbero dividere la scena politica la perdita di un solo seggio westminster per il principale partito dell'unione sarebbe un tonfo simbolico considerato che il partito di unità filo irlandese continua a espandere il suo sostegno grazie al crescente numero di cattolici nazionalisti irlandesi simbolismo è molto importante nel nord in irish politico in tutto irish politico è molto più significato che la realtà di quello che ha fatto e la narrativa molto significativa che ci ha avuto l'ultimo anni fa è che Sinn Féin è riuscita e le partite unionistiche sono in declinazione e se che questo continui in questa elezione farà rinforzare la sensazione che l'Irish unity è potenzialmente più vicino se il pro british democratic unionist party lose just one seat in this general election that means they will in all likelihood return to westminster in london with the same number of seats as Sinn Féin Sinn Féin don't actually take their seats but do engage with officials in london however the fact that unionist dominance in the house of commons will be over as far as northern ireland is concerned will be hugely significant and will likely see further calls in svizzera l'esercito è dovuto intervenire per condurre l'evacuazione di circa 300 persone nel canton ticino e nel canton vallese i militari hanno aiutato a fare fronte ai danni causati negli ultimi giorni dalle biogge torrenziali che hanno ucciso diverse persone poco più a sud in italia le conseguenze del maltempo della scorsa settimana gravano ancora sulla valle d'aosta è stata completata l'evacuazione in elicottero di turisti e residenti quasi 2000 persone rimasti bloccati a cogne dopo l'interruzione per l'esondazione di un torrente dell'unica strada che porta a valle in montenegro sono arrivati i temporali che hanno colpito nelle scorse ore in slovenia e lungo la costa balcanica a zange un cittadino turco ha perso la vita in un cantiere mentre a radovizi una persona è stata uccisa da un fulmine il vento forte a circa 70 chilometri orari ha creato invece disagi a scopie nella macedonia del nord la caduta di alberi ha danneggiato veicoli e creato caos alla circolazione stradale il primo ministro finlandese petteri orpo ha invitato lunedì a non indebolire la proposta di legge sulle deportazioni dei migranti che all'esame del parlamento nazionale la legge consentirebbe all'autorità di frontiera di rifiutare le richieste di asilo in determinate circostanze la misura ha sollevato critiche in Finlandia anche in Europa per le potenziali violazioni di diritti umani che potrebbe causare laki joka me annettiin niin sitä voi toki täällä eduskunta muokata mutta ei vesittää eihän siinä ole taas järkeä että tehdään tällainen poikkeuslaki joka ei toimi että siinä se raja on ja sitä eduskunnan ja sen hallintovaliokunnan pitää arvioida minun asenteeni pääministerin näkökulmasta on se että Suomi tarvitsee tämän lain ja toivon että eduskunta löytää nyt täällä sellaiset ratkaisut että se 5-6 enemmistö sille saadaan ja se voi dati olettorvali semimili Da diversi mesi la Finlandia che confina per oltre mille chilometri con la Russia e altri paesi denunciano manovre di Moska per lasciare passare un numero crescente di migranti e mettere in difficoltà i vicini In Lettonia Maxim Ringo e Yanis Lox sono la prima coppia omosessuale a registrare la loro unione. È successo lunedì poco dopo la mezzanotte quando è entrata in vigore la nuova legge sulle unioni civili. Ora tutte le coppie, comprese quelle dello stesso sesso, potranno legalizzare la loro unione. Il Parlamento Lettone ha votato lo scorso novembre un via libera per le unioni civili tra persone dello stesso sesso, dopo che 46 coppie gay hanno sfidato con successo i tribunali per essere riconosciute come unità familiari. Un'unione viene registrata se le persone non sono sposate, non sono parenti stretti in linea diretta, non sono fratellastri o sorellastre e non hanno registrato un'altra unione. Doveva essere un'estate da record, ma a Parigi l'industria alberghiera è allo sbando. A 24 giorni dai giochi olimpici i turisti sembrano voltare le spalle alla capitale francese. Il direttore di una struttura ricettiva ai piedi di Montmartre fotografa un netto calo delle presenze. L'hotel è pieno solo a metà rispetto ad almeno l'80% degli ultimi anni. Gli operatori del turismo sperano di recuperare il tempo perduto grazie all'effetto vetrina che le Olimpiadi avranno sulle prenotazioni per le prossime stagioni.